Per due anni da che mi sono separata non ho avuto alcuna storia che mi coinvolgesse al punto di diventare ufficiale. Ho avuto molti amanti, questo sì, le serate da sola in casa andavano colmate con la seduzione a coprire la mia solitudine. Ma quasi mai con lo stesso uomo. Deve cambiare per non diventare serio. Il massimo della relazione in cui mi spingo è un amico con cui far sesso. Paura della coppia, paura di sostituire agli occhi dei bambini il padre con un patrigno. O meglio, paura di esporli alle mie svariate volubili relazioni sentimentali. Continuo così, una settimana donna libera, l'altra madre fedele. Chi sono io fra questi due ruoli, tra questi due modelli? Oh madonna. L'ha messa fuori. Come? L'ha messa fuori. Chi è? 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 Chi è